Caro diario, è da mesi che ormai ti tormento dei miei pensieri. Il mio è un mondo fatto di solitudine. Sai, è difficile entrare nell'orbita di questo sistema. Sono come un libro non ancora aperto, che tutti hanno paura di aprire. Chissà perché, forse hanno paura che qualche pagina sia stampata male, oppure hanno paura che leggendo il libro la loro vita possa cambiare. O sono io, che ho tanta paura al punto di arrivare ad avere una penna con me voce, un diario che mi ascolta ed amico, perché tu non mi giudichi, non mi nascondi nulla. Non hai una vita perfetta al tuo interno, hai una vita come la mia, perché nelle tue pagine c'è la mia calligrafia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie per la visione!